Rispetto alle feste che vogliono richiamare le tradizioni, ma non penso che in questo caso servisse una legge. Così il sindaco di Trieste, Cosolini, entra in tec sulle celebrazioni del 3 aprile. Per la prima volta la festa del Friuli è legge. Diventa in pratica a tutti gli effetti una ricorrenza grazie al voto del Consiglio regionale, scatenando però le polemiche dei triestini. A rispondere ci pensa il presidente della provincia di Udine, Fontanini. Non capisco perché il Consiglio comunale debba fare un ordine del giorno dicendo di no ad una festa, che non è dei triestini, è del popolo friulano. Noi non vogliamo invadere il loro territorio, anche se Trieste in quegli anni faceva parte del patriarcato. Era il 3 aprile 1077 quando l'imperatore Enrico IV diede il potere temporale al patriarca Sigeardo sul territorio del Friuli, sperimentando così una forma di autogoverno. Da allora quel giorno è diventato un simbolo per il popolo friulano. Saranno una quarantina quest'anno agli appuntamenti. Il programma vivrà il suo momento clune la mattinata del lunedì di Pasqua, il 6 aprile, a Cividale del Friuli. A Cividale è una città importante perché oltre ad essere la sede dei patriarchi e dei longobardi è stata per tanti anni sede del patriarcato. Ma la legge sembra scontentare un po' tutti. Lo stesso Fontanini che punta il dito sul budget collegato. Insomma, prima ancora di essere una ricorrenza regionale, la festa del Friuli scatena già polemiche. È la festa dei friulani che si riconoscono a questa data e soprattutto sono orgogliosi delle loro tradizioni e di una storia che non è una storia inventata, non è una storia di una sagra, di una festa. È una storia documentata.